visitare e ancor di più vivere a roma è un autentico privilegio basta percorrere il lungo tevere il centro storico i fori imperiali per capire di far parte della storia e di muoversi in un grande museo a cielo aperto è una città dalla bellezza prorompente ti mostra subito la sua magnificenza ma in realtà ogni angolo di roma racconta una storia o meglio strati e strati di storia che continuano a sovrapporsi non a caso è definita la città eterna e riesce sempre a stupire alcuni la definiscono statica indietro rispetto alle altre capitali europee e soprattutto intoccabile ogni intervento di ammodernamento sembra stonare difficile intervenire sia nelle infrastrutture sia con interventi di architettura contemporanea come accade nelle altre capitali come berlino ma roma è roma nessuna città le è paragonabile eppure la sua unicità sta proprio nella diversità ci sono tracce di una roma antica medievale rinascimentale fino alla roma moderna a talmente tanti strati di storia che neanche in una vita si riuscirebbe a scoprirli tutti come immaginare la roma del futuro c'è chi la vorrebbe racchiudere in una grande teca c'è chi la vorrebbe super moderna chissà basta che rimanga sempre eterna sempre magnifica come da millenni